La colpa è dei grandi La colpa è del musicista Davide Misiano e Adolfo Marazzita, direttore della compagnia stabile del musical. In questa prima fase la produzione è impegnata a selezionare cantanti e attori di età scenica compresa tra i 14-16 e i 30-45 anni, richiamando così nella struttura cinematografica tantissimi giovani artisti ed esperti performers che con entusiasmo e professionalità si sono alternati sul palco delle audizioni. Questa produzione parte qui da Brindisi, non perché sia brindisino ma perché crediamo nei talenti pugliesi e vogliamo proprio partire da Brindisi come ricerca tra virgolette di protagonisti per il nostro musical. Attualmente stiamo cercando cantanti ed attori con fasce d'età 14-16 anni, 30-45 anni. Il debutto è previsto in Puglia quindi comunque dalla Puglia partirà questo musical e si reggerà in tutta Italia con un enorme piacere per i pugliesi. Sì, sì, io ti vorrei fare una premessa. Si sa, ma se non si sa ve lo dico io, che ci sono un sacco di pugliesi, brindisini in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo pieni di talento. Lavorano tranquillamente nel campo dell'arte, della musica e quant'altro. Per cui il nostro intento, oltre a valorizzare chi non ha tanta esperienza, è quello di coinvolgere i nostri professionisti che ahimè per necessità lavorano fuori. Perché ovviamente questa è una produzione che nasce in Puglia, ma è una entità e una forza nazionale. Non a caso il regista autore Mauro Mandolini e Davide Misiano per le musiche sono ovviamente personaggi di grandissimo spicco nazionale coinvolti in questo progetto. Nasce in Puglia, sarà allestito in Puglia, si debutta in Puglia, ma la Puglia è soltanto un punto di partenza. Un battesimo artistico per la città di Brindisi che si pone come punto di partenza di un'opera musicale inedita di portata nazionale, così come auspicato dalla produzione che ha deciso di investire in Puglia e prevalentemente sul territorio del grande Salento. Tra gli aspiranti, tanti volti noti al grande pubblico per aver partecipato a trasmissioni TV, Rai e Mediaset, PS teatrali e pellicole cinematografiche, ma anche molti attori e cantanti pugliesi e brindisini abituati ad affrontare lunghi viaggi per i casting, ben lieti di aver colto una tale opportunità a pochi chilometri da casa. Le audizioni si sono concluse nel primo pomeriggio. Parla di rapporti con i genitori, con la scuola. Credo che la grande forza di questo testo e di quello che sarà poi lo spettacolo sia proprio la novità, perché è totalmente originale, quindi non importiamo nulla da altre storie e vogliamo raccontare una nostra storia, una storia italiana, poi partiamo qui dalla Puglia, l'organizzazione di Adolfo Marazzita ci ha permesso di cominciare da qui, però credo che abbia una valenza assolutamente europea, mondiale, perché poi i rapporti con la scuola, i rapporti tra gli adolescenti con i genitori fanno parte proprio di qualunque latitudine o longitudine della terra. Prima impressione sui candidati brindisini o pugliesi in generale? Molto buona, devo dire preparati, simpatici, disponibili, bene, speriamo che continuiamo così. Che dite, continueremo così? Chi ha la possibilità di emergere questa credo sia l'occasione buona, buonissima direi. Una volta selezionato il cast e terminate le prove, il musical sarà pronto per il debutto previsto nell'estate in Puglia con tutta probabilità a brindisi e sui palcoscenici nazionali per la stagione 2012-2013. La colpa è dei grandi, è un musical del tutto innovativo, scritto da figure di spicco del panorama televisivo, teatrale e musicale italiano, caratterizzato da uno straordinario mix di tecnologia, canto, recitazione, danza e passione, unico nel suo genere per le tematiche trattate che entrano in argomentazioni attualissime come il bullismo, la condizione femminile, l'adolescenza e il rapporto genitori-figli, un vero e proprio specchio della società odierna caratterizzato da un linguaggio moderno e facilmente comprensibile dai giovani. Siamo con uno dei candidati al casting La colpa è dei grandi, ti chiami? Federico Inganio. Federico Inganio è un nome che non è nuovo, penso di aver già sentito questo nome, anzi forse anche di aver visto il tuo volto da qualche parte. Sì, ho partecipato al film con Rolbova in Maturi. Ah, tu sei il bambino che non voleva il fratellino, che parla tanto male degli escrementi umani, eccetera, eccetera. Quello là sono io. Sì, va bene. Andiamo avanti, Federico Inganio, grande interprete anche di altro, hai fatto Marcino Pennevino, lo conosciamo perché è di origine per Indisina, qui oggi a fare questo casting importante, perché comunque si parla di un musical a livello nazionale. Le tue aspettative e cosa pensi di questo casting a Brindisi? Penso che è stata una bella cosa farlo a Brindisi perché, dopo tutto, è una città dove io posso dare al massimo, dato perché mi piace anche molto e mi piacerebbe anche molto partecipare a questo casting anche perché si fa anche a Brindisi. Quindi, dicevamo, un casting importante di livello nazionale e ti avevo chiesto quali sono le tue aspettative? Le mie aspettative sono che spero di essere preso, mi piacerebbe molto essere preso. Cosa sai di questo musical, o meglio, di questo casting? Cioè ti sei informato, cosa hai preparato per partire? Io ho preparato un pezzo da me, cioè un monologo, e ho preparato una canzone. Mi sono anche informato su questo casting e hanno detto che sarebbe sull'adolescenza, che sarebbe sui problemi che hanno i ragazzi con i genitori. Cioè, l'adolescenza, mi piacerebbe molto far parte di questo gruppo dell'adolescenza. Mi piacerebbe molto farci parte. Ogni giorno io, quando posso, sai, sento urlarmi, hey baby, ma chi sei? Sin dalla mia pubertà, mi hanno detto scelta, maschidone, non ci puoi far nulla, quindi dai, non fare guai. E ricorda solo tu avermi, così so se mi vuoi.